Bella a tutti, bene e brutti, io sono Umberto Palumbo e siamo qui per fare il video della reazione alla vendita di Marcano al Porto. Allora, questo video sarà breve perché comunque non ero sorpreso, l'avremmo venduto come sempre. Diciamo che questo posto, Roma, non è fatta per questi giocatori qui, per questi giocatori anziani che si vengono a fare la vacanza. Marcano ha fatto schifo, allora partiamo da Vermale, Vermale hanno fatto schifo e poi c'è stato Hector Moreno, c'è stato Marcano e hanno fatto tutti schifo. Diciamo che sono dei giocatori che hanno giocato sempre in top club ma da panchinari, a parte Hector Moreno che giocava in una squadra più bassa, ma comunque una squadra, cioè comunque giocando titolare e anche titolare nazionale. Ma comunque giocatori anziani sulla trentina d'anni che volevano fare quel salto, giocare sempre titolare e giocare la Champions League con la Roma. Quest'anno no, perché arriverà probabilmente Underweilerd, potrebbe essere un Marcano ma non credo perché potrebbe arrivare Underweilerd, non è fatta per nulla ma credo che arriverà. Alla fine perché comunque le parti sono molto interessate, si sta vedendo, Baldini ci sta dando anche una grande mano, scusate c'è il mio gatto che fa casino. Comunque c'è anche, che ne so, un culo o Izzo che potrebbero venire perché comunque sono interessati, cioè Baldini comunque, Baldini che cazzo, Petrachi è interessato a questi due giocatori. Ma, diciamo che la prima è Underweilerd, sicuro la marca non c'è più, quindi ci vogliono due centrali. Uno sarà Mancini che è praticamente ufficiale perché Manolo è stato andato via e l'altro potrebbe essere Underweilerd, non vediamo. Abbiamo anche fatto un'ottima azione a venderlo, bravo, bravissimo Petrachi perché ha piazzato un giocatore che ha pagato a zero, a 5 milioni di euro, alla stessa squadra da cui l'avevamo preso lo scorso anno. Quindi, una mini plus valenza, chi lo sa perché il Porto era coglione, probabilmente il Porto aveva qualche problemi mentali, ma secondo me anche perché ormai voleva finire la carriera lì, e allora gli hanno fatto un favore, anche probabilmente giocherà a Panchilano, ma al Porto, ma chi lo sa. Comunque, era un ottimo rincalzo, non era chissà che, ma si poteva anche tenere come ultimo in difesa. Ma così almeno abbiamo liquidato alcuni soldi e siamo sicuri, adesso dobbiamo prendere il secondo centrale difensivo, sicuramente arriverà Mancini, vedremo il prossimo. Per il resto, bisogna trovare assolutamente sostituto, quindi mettiamoci subito sul mercato e compriamolo velocemente perché voglio una squadra già pronta, in modo da non doverla adattare nelle prime giornate, ma avere già una squadra pronta dal ritiro della Roma. Già ho visto oggi delle ottime interviste di Spinazzola e di Paolo Lopez, che mi sono piaciute come parole, quindi comunque Petrachi sta facendo un ottimo lavoro, secondo me potremmo costruire una squadra veramente, veramente competitiva, su tutte le competizioni alle quali parteciperemo. Quindi questo video finisce qui, mi raccomando lasciate like, iscrivetevi al canale, e commentate qui sotto con la vostra opinione su questa vendita da parte della Roma. Bella! Ciao!